Siamo con Melissa Martinelli di Cusbaricala a Torino, questa sera vincitrice sul campo di Montecchio, conferma del terzo corso in classifica e dopo, appunto, fra una settimana, l'ultima della regular season e poi si comincia con la fase promozione. Un tuo commento prima sulla partita e poi su quello che sarà il futuro del vostro campionato? La squadra è stata molto intensa perché giocare in casa da loro non è stato affatto facile, è una squadra che nelle ultime partite hanno guadagnato punto con squadre comunque che sono di alta classifica e quindi ce la siamo giocata punto a punto e fortunatamente siamo riusciti a portare a casa i nostri punti. Per quanto riguarda l'eseguimento del campionato, continueremo a lavorare sodo e per non mollare perché ci aspetta veramente un campionato difficile con altre squadre. Anche perché squadre che comunque non conoscete in quanto proverranno dall'altro girone, quindi ancora più difficile. Sì esatto, le stiamo seguendo, però non conosciamo molto il loro gioco, quindi ci dobbiamo veramente impegnare molto e mi auguro che vado a studiare. Grazie e complimenti per questa esperienza.